naturalmente ciascuno è libero di fare quello che vuole ed è libero di mangiare dove gli pare poi ci sono dei momenti in cui incontri qualcosa che ti fa strabuzzare gli occhi e stamattina mi è successo ho scoperto che c'è un signore che si fa chiamare Gatspacho Machine che ha creato praticamente si è inventato un mestiere facendo review di cibo di quello che mangia e fin qua niente di particolare la cosa particolare è che lui mangia tutto sotto la doccia con la doccia aperta mentre l'acqua scende e lui è lì che fa le review di tutte le cose possibili e immaginabili non sono riuscita a trovare dei video però lui pubblica delle foto su twitter è una cosa un po' non lo so se è tra il raccapricciante e il morboso mi sono messo un po' a sfogliare le foto e a leggere i commenti a un certo punto dice la mia ex fidanzata mi diceva che le cose che facevo fanno schifo che non si mangia sotto la doccia il signore spiega com'è nata questa idea dice che un giorno aveva bevuto troppo la mattina si è alzato e doveva fare la doccia voleva fare colazione che sono due cose che lo aiutano a superare il mal di testa ai postumi della sbornia allora per tagliare i tempi e riprendersi più velocemente ha deciso di fare tutte le due cose contemporaneamente e si è messo a mangiare sotto la doccia e non è che si mette non è che mangi cose diciamo da poco mangia bistecche mangia curry indiano e a proposito dei curry mi pare che gli sia pure caduto il piatto nella doccia e ha rotto tutto mangia noccioline americane che però ha aggiunto che le bucce hanno intasato lo scarico della doccia e poi ha dovuto chiamare un idraulico diciamo che è una un'attività come un'altra ora lui ci sta pure guadagnando dei soldi perché la gente da casa gli manda dei soldi con suggerimenti per mangiare qualcosa di particolare sotto la doccia e lui si fa queste foto ripeto ancora non sono riuscita a trovare dei video non so se poi alla fine pubblichi solo le foto o anche i video però è sicuramente una cosa che personalmente mi fa un po schifo da molti punti di vista sia dal punto di vista del farsi la doccia immaginate portare roba da mangiare sul piatto della doccia sia dal mangiare come fa una persona a gustarsi le cose con l'acqua che scende comunque ripeto il mondo è bello perché vario perché la gente varia finché non si fa del male agli altri si può fare quello che si vuole sicuramente questo signore si è trovato un lavoro molto di nicchia dubito che ci siano molto molti concorrenti che vogliono soffiargli il lavoro